Amici sportivi, buonasera a vostro Fabio Raressa e a Beppe Bergomi. Mister Allegri, dopo essersi verso la partita decisiva perché ha sbagliato stadio, cerca di arrivare in tempo alla festa Scudetto con ogni mezzo possibile. Ce la farà Beppe? Sì sì, speriamo Fabio. Calam ends! Calam Core! Cavolo! 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 Ma... niejsi... E' una morale tante ma... ma poi... ma a cosa hai servito?! Grazie a tutti.